Loco, ormai sono passati diversi giorni dalla sentenza del collegio di garanzia eppure l'Entella continua a non giocare. Ti chiedo come state vivendo questa situazione e che clima si respira anche nello spogliatoio? Ma è un clima di incertezza, è quello che ci portiamo dietro da, ormai da, non dico da ritiro, ma quasi, perché comunque quando sembrava che tutto fosse finito perché abbiamo cominciato a giocare la prima parte di Serie C e poi è arrivata questa sentenza del Coni che ci ha rimesso in gioco. È chiaro che siamo penalizzati in questo momento, soprattutto perché non sappiamo il nostro destino, non sappiamo in che categoria dobbiamo giocare e poi in questo momento ci alleniamo senza l'obiettivo della partita finale. Quindi mentalmente siamo penalizzati, poi ora come ora ufficiale abbiamo fatto solo tre partite, adesso abbiamo anche difficoltà a trovare squadre per giocare, per allenare la partita, lo stiamo vivendo un po' così, non è la situazione ideale. Avete rotto il silenzio con una lettera che hai firmato in quanto capitano, che cosa chiedete alla Federcalcio? Noi chiedevamo un incontro per avere un minimo di chiarezza, visto che sono passati ormai sei giorni dalla sentenza del Coni e ancora non abbiamo avuto nessun riscontro, è semplicemente questo, di sapere che cosa dobbiamo fare e soprattutto la categoria che dobbiamo fare. In questo momento ci è stato detto che la nostra categoria è la Serie B, però non c'è stata data risposta da nessuna parte e c'è stato questo ricorso da parte della Lega di Serie B, però per avere la sentenza bisogna aspettare altri dieci giorni. Quindi è una situazione veramente assurda che prolunga ormai un'agonia che va avanti da più di un mese. Ti chiedo un'ultima cosa, quanto è difficile anche dal punto di vista fisico rimanere allenati e preparati anche perché qualsiasi campionato giocherete, dal mese di ottobre giocherete ogni tre giorni perché le gare da recuperare verosimilmente saranno tante, sia in Serie C che in Serie B? No, sì, ripeto, come prima, sia mentalmente che fisicamente non è facile. Noi comunque ci stiamo allenando bene perché ci stiamo allenando bene, non è facile non staccare mai la spina perché quando non è l'obiettivo della partita è normale che mentalmente un po' stacchi, però non ci possiamo permettere neanche quello. È chiaro che nel momento in cui si andrà a riprendere, spero che si riprenda più presto, non si sa anche categoria, ma comunque saremo penalizzati anche lì perché dovrai poi recuperare non so, sei, sette, otto partite nel girone di andata e questo sicuramente sarà difficile. Quindi sarà un ulteriore problema per noi, per lo staff, perché organizzare il tutto sarà veramente una cosa difficile, però intanto cerchiamo di fare un passo per volta. Io spero che arrivi questa sentenza e che ci dia in maniera definitiva la categoria in cui giocheremo. Poi prenderemo un po' per volta tutto e vedremo che cosa andare incontro, ma intanto che ci dicono dove dobbiamo giocare.